Chi mi conosce sa che in mia carriera non ho mai giocato su pareggio. Le mie squadre giocavano sempre per vincere, dopo cosa potrebbe succedere e cosa succede durante la partita è imprevedibile, ma io, meno di una vittoria, non sono mai contento. Non penso pressione, ma forse possiamo arrivare con tanta lucidità e anche giocare questo derby a viso aperto e non pensando cosa succederebbe se succede. Andare con tanta consapevolezza è importantissimo dare tutto quanto cosa si ha in questo momento per vincere il derby perché ci serve un Lazio superlativo per vincere di nuovo il derby. La fiducia mi dà anche la forma che abbiamo in questo momento. Sicuramente questa consapevolezza, tranquillità che ho visto anche da ragazzi ieri in allenamento, che si hanno divertito, che non è neanche così. un'abitudine due giorni prima di una partita di genere, ma questa è anche maturazione di questa squadra perché quest'anno ha giocato diverse partite molto importanti e penso che questo può essere un vantaggio. Come sta Close? Sta bene. Ha mangiato ieri sera bene. Si è allenato, si sta allenando, sicuramente non è al 100%, ma c'è ancora un giorno di tempo di valorizzare sua forma e valutare insieme con lui anche per domani. Musica Musica